minuetto le grandi disgrazie mi rattristano molto diceva jean bridal uno scapolo incallito che aveva fama di scettico ho visto la guerra proprio da vicino scavalcavo i cadaveri senza provare pietà le atrocità della natura dell'uomo possono strapparci grida di orrore o di sdegno ma non riescono a darci quella stretta al cuore quel brivido che scivola nella schiena davanti ai piccoli particolari che ci straziano il dolore più forte che si possa provare è di certo quello della morte per un figlio da parte di una madre così quello per la morte della madre da parte di un uomo è qualcosa di violento e terribile che sconvolge e tormenta ma anche queste sciagure possono essere alleviate così come si può guarire da profonde ferite sanguinanti invece alcuni incontri alcune cose intraviste o indovinate alcuni segreti dolori alcune perfidie del destino capace di muovere dentro tutto un mondo di dolenti pensieri che fanno aprire improvvisamente davanti a noi la porta misteriosa di sofferenze morali complesse senza scampo tanto più profonde quanto più sembrano lievi tanto più bruciante quanto più sembrano passeggere e tanto più tenaci quanto sembrano false ci lasciano nell'anima una scia di tristezza un gusto amaro una sensazione di profonda delusione incancellabile ho sempre presenti due o tre episodi che forse non avrebbero fatto a molte persone nessuna impressione e che mi pungono l'animo sottili ma tenaci può darsi che non possiate comprendere la commozione che hanno suscitato in me quelle rapide sensazioni ve ne racconterò una solamente risale a molto tempo fa ma è viva come se fosse accaduta ieri forse tuttavia questo mio turbamento ha origine soltanto nella mia fantasia ho 50 anni a quell'epoca ero giovane studiavo giurisprudenza un po triste un po sognatore imbevuto ad una filosofia malinconica non mi piacevano i caffè chiassosi i compagni esuberanti le donnine stupide mi alzavo di buon'ora e uno dei miei più vivi piaceri era di andarmene solo soletto verso le otto del mattino nel vivaio dei giardini del luxemburg avete fatto in tempo a vederlo voi quel vivaio era simile a un giardino dimenticato del secolo scorso un giardino grazioso quanto un suave sorriso d'una vecchia dama finte siepi separavano i viali stretti e regolari viali tranquilli tra due pareti di arbusti tagliati a dovere enormi cesoie del giardiniere pareggiavano in continuazione quei muri di fogliame di tanto in tanto si potevano osservare aiuole fiorite strisce di prato con alberelli allineati come collegiali a spasso gruppi di splendidi rosai o filari d'alberi da frutta un intero settore del delizioso luogo era abitato da api le loro casette di paglia giustamente suddivise su tavole aprivano al sole portelli grandi quanto l'orifizio d'un ditale per i sentieri si incontravano quei dorati insetti ronzanti veri signori di quel luogo di pace in continua esplorazione di quei vialetti tranquilli simili a corridoi ci andavo quasi ogni mattina mi sedevo su una panchina e leggevo qualche volta lasciavo cadere il libro sulle ginocchia per sognare per sentire parigi che viveva intorno a me e godermi il riposo senza fine di quel luogo antico ma presto mi resi conto che non ero io il solo frequentatore di quel posto sin dall'apertura dei cancelli e cominciai a incontrarmi faccia a faccia alla svolta d'un cespuglio con uno strano vecchietto portava scarpine con fibbia d'argento calzoni appena sotto il ginocchio una red ringot color tabacco di spagna un merletto annodato come una cravatta e un incredibile cappello grigio a pelo lungo e falde larghe che faceva venire in mente il diluvio era magro magrissimo tutt'ossa sbilenco e sorridente i suoi occhi vivaci palpitavano guizzavano nel continuo ammiccamento delle palpebre e reggeva sempre in mano un bellissimo bastone dal pomodoro che doveva essere per lui uno splendido ricorgo da principio quel piccolo uomo mi stupì poi mi interessò moltissimo lo spiavo attraverso le pareti di fogliame lo seguiva a qualche distanza arrestandomi alla fine dei boschetti per non essere notato ed ecco che una mattina convinto da essere solo iniziò a fare degli strani movimenti prima qualche saltello poi una riverenza accennò con le gambette secche uno sgambetto ancora agile poi pirouettò con galanteria sgambettando agitandosi in maniera buffa sorridendo come davanti a una platea facendo mossette mettendo le braccia a semicerchio torcendo l'asile corpo da burattino rivolgendo un lieve inchino verso il vuoto un inchino commovente e ridicolo danzava rimasi impietrito dallo stupore e mi chiesi chi fosse il matto di noi due si fermò d'improvviso fece qualche passo avanti come un attore verso la ribalta si inchinò ritraendosi indietro fra sorrisini e bacetti da attrice che rivolgeva con la mano tremula alle due file di alberi potati poi riprese con sussiego la sua passeggiata da quel giorno io non l'ho persi più di vista ogni mattina rifaceva quell'incredibile balletto mi prese una voglia matta di parlargli arrischiai e dopo averlo salutato gli dissi bella giornata oggi signore sin chi no sì signore il vero bel tempo d'una volta otto giorni dopo eravamo amici e conoscevo la sua storia era stato maestro di ballo all'operà all'epoca di luigi 15 quel suo bel bastone era un regalo del conte di clermont e se si parlava di balletti non la finiva più di chiacchierare un giorno mi fece una confidenza ho sposato la castris signore potrei presentarvela ma lei viene qui solo il pomeriggio sapete questo giardino è il nostro piacere e la nostra vita e quanto ci resta del passato se non ci fosse forse non ce la faremmo più a vivere è antiquato e di classe non è vero mi sembra di respirare qui un'aria che non è mai cambiata da quando ero giovane mia moglie e io trascorriamo qui tutti i pomeriggi ma io ci vengo anche la mattina perché mi alzo presto appena terminata la colazione tornai a luxemburg e non tardai ad incontrare il mio amico che dava cerimoniosamente il braccio a una vecchietta nero vestita a cui mi presentò era la castris la grande danzatrice amata da principi amata dal re amata da tutto quel secolo galante che pare abbia lasciato al mondo il profumo d'amore ci sedemmo su una panchina di pietra era di maggio un profumo di fiori ondeggiava per i viali in ordine tra le foglie penetrava un bel sole che spargeva su noi larghe gocce di luce l'abito nero della castris pareva intriso di chiarore il giardino era deserto in lontananza sentivamo il rotolio delle carrozze chiesi al vecchio ballerino per favore spiegatemi cos'era il minuetto trassa lì il minuetto è la regina delle danze è la danza delle regine capite da quando non abbiamo più re non c'è più neanche il minuetto iniziò a fare pomposamente un lungo elogio esagerato di cui non compresi niente cercai di farmi descrivere passi movimenti posizioni lui si perdeva nelle descrizioni adirato per non riuscire innerfosito e dispiaciuto allora rivolgendosi alla vecchia compagna che sino allora era rimasta sempre seria in silenzio e liste ne prego vuoi essere tanto gentile da far vedere a questo signore com'era con inquietudine lei si guardò attorno poi senza dire una parola si alzò e andò a mettersi davanti a lui vidi allora una cosa indimenticabile andavano avanti e indietro scambiandosi smorfiette infantili sorridendosi dondolandosi piegandosi saltellando come vecchie bambole costrette alla danza da un meccanismo invecchiato e un po logoro costruito nel tempo passato da un abilissimo artigiano secondo l'uso del suo tempo riguardavo quel cuore commosso da sensazioni sublimi l'anima turbata da indicibile malinconia mi sembrava ad assistere a un'esibizione comica e straziante riflesso fuori moda di un altro secolo mi veniva da ridere e da piangere si fermarono all'improvviso avevano finito le figure della danza rimasero per qualche attimo uno di fronte all'altra con smorfie strabilianti poi si abbracciarono tra i singhiozzi tre giorni dopo lasciai parigi non li ho più rivisti quando tornai due anni dopo il vivaio non c'era più che cosa sarà stato di loro senza quel caro giardino d'altri tempi con sentieri a labirinto col profumo del passato nei glaziosi meandri dei pergolati sono morti vagano per le via di oggi come esiliati che non sperano in nessun ritorno ballano spettri grotteschi un fantastico minuetto tra i cipressi di un cimitero al chiaro di luna lungo viali orlati da tombe il loro ricordo non mi da pace mi assilla mi tormenta lo sento dentro di me come una ferita perché non lo so a voi questo sembra ridicolo non è vero